buongiorno bambini come state oggi ho pensato per voi ad un'attività semplice colorata e divertente ora vi faccio vedere di cosa si tratta lo so che siete curiosi però poi anche io sono curiosa di vedere i vostri li aspetto intanto vi mando un bacio grande ve lo dico sempre che mi mancate tanto perché mi mancate tanto e un bacione a presto ricordo che a tre anni per convincermi a parlare mio padre mi stira il naso ed io giù a lacrimare finché un bel giorno dissi quel che mente mi passò rimase così male che il meglio si ritrovò oh super cari fragilisti che si ralidoso anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso se lo dici forte avrai un successo trepitoso super cari fragilisti che si ralidoso anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso se lo dici forte avrai un successo trepitoso super cari fragilisti che si ralidoso si può dire anche all'inverso dosorali espilisti fragicali repus ma sarebbe un po' esagerato senza dubbio se tu non sai che dire non ti devi scoprire